salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi si torna a parlare del ciclo bretone e questa per davvero è la penultima volta oggi finalmente parliamo spero in brevissimo perché sarebbe troppa roba scendere troppo nei dettagli e dettagli troppo inutili della caccia al santo graal di galad bors parsifal lancillotto e compagni vari che vedremo tutti quanti lentamente anzi no repentinamente uscire di scena bando alle ciance sigla prima di iniziare vi ricordo come ho fatto con la clip a inizio video che è uscito il mio libro il destino di loki primo libro è la quadrilogia del crepuscolo trovate i link in descrizione per entrambe le versioni inoltre se volete sostenere il canale come vostro solito potete iscrivervi lasciare commenti condividere lasciare mi piace in descrizione trovate i link per la piattaforma viola di stringo li trovate solitamente in live il lunedì mercoledì e giovedì trovate anche i link per tutte le mie pagine social per le pagine per sostenermi anche economicamente tramite paypal cofi lista desideri amazon e patreon soprattutto trovate anche il link per lo storico di topolinea e per la mia pagina i docente doceti oltre che lo store di magliette sotto al video l'hanno recentemente ripristinato perché boh era crollato e anche linkato in descrizione detto questo andiamo avanti ci siamo fermati l'ultima volta con galad che arrivato a camelot sconvolge un po l'esistenza di tutti perché il suo arrivo a camelot in quel giorno di pentecoste segna l'inizio letteralmente della fine appare la processione del santo graal tutti quanti assistono al miracolo gawain che deve sempre rompere un po le scatolette promette di trovare il graal in onore di artù per compiere quell'impresa annuale e tutti e 150 i cavaliere tavola rotonda lo seguono a ruota e artù in quel momento si rende conto che tutto è perduto perché nessuno tornerà in quanto è già nell'aria che sarà galad a prendere il santo graal ma perché perché è comparso dal nulla più bello del sole perché ha estratto una spada nella roccia come ha fatto re artù forse perché è l'erede di giuseppe da rimatie del re salomone sì perché galad è anche questo da parte di madre ovviamente ha tutta questa discendenza perché in origine re pellas pellam pelles o quel che è perché ci sono varianti del suo nome che è il nonno di galad era il re pescatore della leggenda di parsifal scritta da cretienne de troie ma il malori quando ha messo insieme tutte le nozioni ha diviso questo personaggio in quattro re pescatori c'è re pellas o pelles o pellam che è il nonno di galad c'è un altro pellas pellam pelles quel che è che è un altro personaggio ancora poi c'è il re pescatore e il re ferito custodi del graal in diversi momenti siccome c'è una grande confusione al riguardo e non serve scendere nei dettagli perché non si può scendere nei dettagli non ci sono perché se ne è inventata di sana pianta sta divisione malori io taglio subito corto e vi dico anche che seguirò pedissequamente quanto vi dice mila nel suo libro sui caviari della tavola rotonda perché leggervi malori potrebbe portarvi al suicidio o quantomeno a perdere 3 4 neuroni fra tutta la fuffa che succede fra tutti quanti i cavalieri noi ci concentreremo sulla spedizione che tra l'altro è la cosa che fa anche male raggiungendo fuffa in giro di bors che è molto importante parsifal galad ovviamente e l'ancillotto con un piccolissimo accenno di gawain al momento della partenza i cavalieri non partono insieme ma si dividono in piccoli gruppi o partono da soli come farà anche galad che è diventato da pochissimo il più importante dei cavalieri della tavola rotonda e il più prote parte da solo e in poco tempo arriva in una cappella dispersa nel nulla già raggiunta da un fido compagno da ser bau de magu che ha trovato nella cappelletta uno scudo di incredibile fattura che sembra emanare quasi luce e bau de magu lo trova lì incustodito lo prende se lo vuole portare appena esce dalla cappella un essere ammantato di luce gli urla non è tuo e lo lascia lì a terra mezzo morto riportando lo scudo dentro la cappella galad che per fortuna è l'unico non deficiente del gruppo vede sta roba dice no meglio che me ne vado però un monaco che passa di lì nessuno in epic inutile ai fini della trama gli dice no 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 vai vai quello scudo è destinato a te questo eremita gli spiega che lo scudo era appartenuto al re hevelac che aveva regnato sulla città di sarras intorno a 32 anni dopo la morte di gesù cristo in quanto aveva ricevuto quello scudo proprio da giuseppe d'arimatea che era giunto in inghilterra portando doni incredibili e ovviamente anche il santo graal perché è merito di giuseppe d'arimatea se il santo graal si trova in inghilterra questo re aveva utilizzato lo scudo per sconfiggere i suoi nemici convertendosi ovviamente la religione cristiana poiché lo scudo aveva una croce rossa tracciata sopra e quando lo si estraeva in battaglia lo si scopriva in battaglia i nemici si indebolivano e garantiva praticamente la vittoria quando giuseppe d'arimatea è morto praticamente la croce sullo scudo era scomparsa più o meno in concomitanza con la conversione totale della città di sarras al cristianesimo come ultimo gesto il re traccia col suo sangue una croce sullo scudo che da loro in qualche modo è benedetto ed è rimasto lì per secoli l'eremita poi invita galad a imbracciare lo scudo e quando galad lo prende in mano sente che è fatto apposta per lui è perfetto per il suo braccio anche perché il re di giuseppe d'arimatea e il sesso romone tutto il resto quindi è ovvio che lui è il prescelto ecco lo scudo e la spada in oro rosso va ad affrontare sette fratelli briganti al castello delle pulzelle dove ci sono per l'appunto questi sette briganti che insidiano le giovani donne che vivono lì prima chiede però all'eremita di salvare quel povero disgraziato di baudemagu che sta lì a terra mezzo morto però poi se ne va va da questi sette fratelli e li carica di mazzate sui reni però loro chiedono pietà e galad gliela concede la pietà andando via per tornare alla ricerca del santo graal caso vuole che di lì passassero anche gawain e compagnia la copietta di parenti gawain garet e ivano passano di lì trovano sti sette fratelli che di nuovo hanno ricominciato a insidiare le pulzelle e non hanno pietà li macellano lì sul posto fanno praticamente la strada inversa galvano e giungono anche loro al piccolo monastero la piccola cappella dove si trova l'eremita che ha consegnato lo scudo a galad ma l'eremita li accoglie con freddezza dicendo loro soprattutto a gawain che si sono macchiati di troppi peccati per trovare il santo graal sono cavalini solo di facciata perché gli sono permessi di uccidere parenti e amici senza neanche pensarci troppe volte ovviamente fanno riferimento alla sequela di omicidi che ha compiuto gawain con tutti quanti i figli di morgause ai danni di questo quel cavaliere come vi ho raccontato negli scorsi video nei giorni successivi gawain penserà a quanto quell'eremita gli ha detto e decide di tornarsene a casa infrangendo persino il voto di trovare il santo graal capendo che non è capace che non è un vero cavaliere è il primo cavaliere di origine pagana ma lo rilasciottato gawain non lo vediamo più fine cioè sì in realtà lo vediamo che muore nella battaglia finale però spoiler tra l'altro però qui è sciottato il primo cavaliere gawain ha tendenze comportamentali dell'eroe pagano celtico non va non può no giusto per pianificare meglio le cose il buon malori ci dice che quella notte mentre dormiva in quella cappelletta monastero quel che era galvano ha un sogno e vede 150 tori due bianchi uno macchiato che trovano che sono bianchi e gli altri tutti quanti neri che vanno a buttarsi a mare in una scogliera la metafora e glielo spiega l'eremita lì sul posto è che tutti quanti i tori neri non torneranno mai e non troveranno il santo graal i tre bianchi ce la faranno ma solo uno di loro tornerà vivo da questa impresa galvano a quel punto gira i tacchi diventa uno dei tori neri però non morendo ma abbandonando la ricerca meanwhile in una piccola cappella sferduta nel bosco perché mezza abbandonata mezza diroccata l'ancillotto si ferma lì per riposare trovandolo un posto tranquillo nel bel mezzo della notte vede parsifal che è tornato da una sovventura è tipo ferito quasi a morte bussa alla porta qualcuno apre l'ancillotto mette un occhio dentro e vede il santo graal la porta si chiude in faccia all'ancillotto e parsifal viene curato con il liquido che stilla dalla divina coppa parsifal ovviamente è ammirato ma non prova ad raccogliere il graal e neanche fa domande perché ricordiamoci che parsifal non fa domande l'eremita tuttavia gli spiega che quel graal è lì in attesa di colui che lo troverà ed è costante oggetto di adorazione di un uomo distrutto tutto ferito con una gamba ferita cieco vecchissimo che l'eremita dice essere re evelec che è rimasto lì per 300 anni colpito da una sorta di maledizione dell'immortalità in attesa che l'erede di giuseppe d'arimatea lo liberasse dalla condizione mortale e recuperasse finalmente il graal il mattino dopo parsifal esce da quella cappella capendo che deve andare a cercare galad e deve portarlo lì l'ancillotto vede uscire parsifal prova a entrare lui la porta gli si sbatte di nuovo in faccia ci riprova un'altra volta l'eremita apre la porta gli da 3 4 pugni nel grugno e lo manda via dicendo che l'ancillotto è impuro ha tradito la fiducia del suo signore si è insozzato col tradimento e la lussuria e non si merita di vedere il santo graal grande eremita in pratica impone una punizione all'ancillotto che per un mese dovrà stare in totale digiuno astinenza il cilicio pregare disperarsi e pentirsi per i suoi peccati anche solo per entrare in quella cappella non per vedere il graal deve pentirsi e l'ancillotto fra amare lacrime incomincia a farlo e non si conto che è un pezzo di me se però pensate che parsifal dopo aver visto il santo graal abbia avuto vita facile non è vero mai perché gli compare di fronte un bellissimo cavallo che aspetta che lui gli salga in groppa e parsifal pensa che sia un dono di dio la realtà dei fatti è che quel cavallo l'ha inviato qualcuno di malvagio per sviare parsifal dalla sua ricerca di galad e quindi il cavallo imbizzarrito lo trascina via sempre perché parsifal non si fa domande quindi sale senza remora sul cavallo e lo getta in mare andiamo da un altro cavaliere ser bors cugino di lancillotto come vi ho detto nello scorso video ha avuto una visione del figlio del leopardo che avrebbe superato suo padre e sconfitto ogni avversità e aveva capito che ci si riferiva a galad figlio di lancillotto ergo lui riesce a capire questa cosa in viaggio e va alla ricerca del nipote circa proprio quello che è per avvisarlo ma non sa dove andarlo a cercare e nella ricerca scopre qualcosa di brutto lionello suo fratello ancora parente di lancillotto nella ricerca del graal perché in realtà ragazzi sono passati molti mesi da quando è iniziata la ricerca è tipo impazzito si è dato alla criminalità e un brigante e boss è costretto a ucciderlo e si rende conto che molti altri cavalieri come lionello stanno diventando così molti si uccidono fra di loro molti uccidono innocenti e quindi vengono giustiziati dalle autorità locali o da altri cavalieri rimasti ancora per il momento sani di mente i cavalieri della tavola rotonda stanno diventando uno dopo l'altro dei briganti su questo ciclo si fonda la cavalleria è vero che nella realtà i cavalieri erano delle bestie però su questo ciclo si fonda la cavalleria edulcorata e comunque sono una massa di disgraziati prima di calare quello che sarebbe stato il colpo finale pensando di aver lasciato il fratello morto ma in realtà era solo mezzo morto bors scappa via va vicino a una costa e all'improvviso dalla nebbia emerge una barca una nave su cui una figura lo sta salutando parsifal che ha visto arrivare sta nave quando lui stava tipo in mezzo all'acqua aveva fatto un volo di 20 metri da una scogliera questa barca portata avanti da praticamente nessuno lui ci sale perché non fa domande saluta il buon bors e i due decidono di imbarcarsi insieme alla ricerca di galad perché entrambi sanno che tutta la ricerca potrà finire solo per mano del giovane figlio di lancillotto dopo alcuni giorni di viaggio vedono galad attenderli sulla costa accompagnati da una bella dama che però non è una sua compagna e in realtà sua zia sorella di sua madre seconda figlia di reppelles che ha detto al nipote di attendere lì lo ha accompagnato e insieme salgono sulla nave poiché è compito di galad raggiungere il graal robe varie peccato che dopo un paio di giorni di viaggio finiscono incagliati in degli scogli senza rendersene conto e rimangono lì bloccati fino a quando una bellissima nave guidata anche stavolta da nessuno li si ferma accanto e tipo c'ha la targa sopra questa è la nave della fede chi non ha una fede pura e un'anima pura non potrà salire su questa nave guidati da galad che è letteralmente più puro di gesù cristo secondo il malori praticamente tutto il gruppo passa sull'altra nave dove trovano una bella cabina tra l'altro con un letto molto particolare con diversi fusi di legno colorati e qui è la zia di gala da spiegarci cosa sono quei fusi la donna spiega che quel letto fu costruito dal re salomone prendendo il legno che aveva avuto chissà come dell'albero piantato da eva nel giardino dell'eden che era in principio bianco quando tutto era perfetto incorrotto era divenuto verde dopo che eva aveva mangiato della mela insieme poi ad adamo e rosso dopo che caino aveva ucciso a bene salomone aveva recuperato questi tre fusi e anzi questi tre pezzi di legno aveva fatto i tre fusi da porre su questo letto meraviglioso e tra l'altro aveva fatto costruire anche quella nave dove assieme a quel letto molto particolare aveva lasciato la spada leggendaria e invincibile bla 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 del re davide che era talmente magicamente affilata che nessuna cintura poteva contenerlo ma solo la ciocca di capelli di una vergine poteva resistere al filo incantato e benedetto di quella spada tanto che ovviamente la zia offre a galahad la spada e si taglia tutti i capelli lunghi facendo una sorta di legaccio corda con cui portare al fianco la spada facciamo il conto galahad al momento ha la spada in oro rosso che è la spada della roccia 2 la vendetta la spada invincibile di re davide lo scudo del re evelec barra giuseppe d'arimatea e a un certo punto contategli anche la lancia di longino voi mi chiederete ma perché non ci spieghi com'è che l'ha trovata no è perché non ce lo spieghi perché non ce lo spiega neanche il manori non sto scherzando succedono altre avventure ma seguendo il riassunto fatto da mila link in descrizione tra l'altro ragazzi diciamo che la nave si ferma un castello dove c'era una dama molto malata che solo tutto il sangue del corpo di una vergine avrebbe potuto salvare è la zia di galahad malvolentieri per gli altri cavalieri ovviamente si sacrifica e dà un'ultima istruzione al nipote ovvero di lasciare il suo corpo a riposare sul letto presente nella nave e di mettere sul suo petto una lettera che descriva minuziosamente quello che galahad ha fatto e dove si trova in quel momento c'è questo salasso la dama sicura e i nostri eroi vengono acclamati bla 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 la zia di galahad viene posta sul letto come da istruzione e la nave parte da sola e va a trovare l'ancillotto che aveva finito il suo mese di penitenza e quindi va dal figlio legge la lettera riesce a rintracciare i figli e va dal figlio si riabbracciano fanno gruppo e insieme vanno finalmente nella loro destinazione finale si dirigono infine al castello di carbone che in realtà dovrebbe essere il castello di un re pelles ma quale d'età non ci interessa più mi sono rotto le balle ma non ci vanno al castello di carbone che dovrebbe essere il castello del nonno di galahad voi mi direte ma 15 aveva fin dal principio lui il graal sì andiamo avanti assieme a loro vengono accolti nel castello altri sei cavalieri provenienti dalla gallia e dall'irlanda che sono lì probi e coraggiosi guerrieri ad assistere alle grandi rivelazioni vengono fatti entrare in una sala ma appena l'ancillotto prova a entrare nella sala una fiammata gigante lo investe lo tramortisce tenendolo in coma per 24 giorni in questi 24 giorni succederà un casino e l'ancillotto non vedrà mai più né parsifal né suo figlio galahad scopriremo adesso perché galahad bors e parsifal vengono accolti in questa sala dal re menomato dal re pescatore pelles quello che è e assistono alla comparsa del santo graal di nuovo questa processione angelica questi miracoli è presente il re cieco re eveleic lì in attesa di compiere il suo destino secondo alcune versioni in questa occasione galahad incontra gesù cristo e ci parla tutti bevono della coppa tutti quanti assistono al miracoli incredibili e alla fine galahad accetta la coppa dà la benedizione a eveleic cancellando il suo sangue dallo scudo ed eveleic muore finalmente dopo 300 anni ai cavalieri della tavola rotonda viene affidata un'ultima missione accettano di condurre il santo graal alla città di sarras dove dovrebbe esserci il discendente di eveleic a governare dove aveva governato tra l'altro il re pescatore cieco malmesso menomato chiamatelo come volete e quindi i cavalieri portano il graal in un'urna argentata tipo le tavole della legge l'arca dell'alleanza lasciano lì quel povero disgraziato di lancillotto che è in coma perché era troppo impuro per assistere ai miracoli del graal e vanno avanti per la loro strada nel frattempo incontrano ser palamede che se non vi ricordate è quel saraceno che viene fatto cavaliere e che prende il posto di pellinor nella ricerca della bestia latrante palamede l'ha trovata ma non riesce a darle l'ultimo colpo di grazia perché la bestia fugge in continuazione i tre cavalieri in realtà perché uno rimane a guardia dell'urna riescono ad accerchiare la bestia latrante e palamede la ammazza portando finalmente a compimento quella missione questa è una metafora perché il peccatore pentito ha ucciso la personificazione del peccato convertendosi e credendo nel vero dio per farla brevissimo ragazzi i tre arrivano a serra si incominciano a compiere miracoli facendo vedere ai poveri storpi infermi e malati il santo graal e il graal cura tutti dalle loro infermità però ciò suscita le invidie e la rabbia del re storause che era lì ed era crudele tirannico malvagio tanto che prende i tre cavalieri e l'urna genio e li fa rinchiude in una delle celle più buie e sperdute delle sue prigioni sperando di portare i tre cavalieri alla fame il graal produce ogni giorno una specie di ambrosia che tiene in vita in salute perfetta i cavalieri che alla fine hanno il guizzo e riescono a sistemare la situazione perché effettivamente nessuna buona azione rimane impunita e il popolo ricordatosi di galade e compagni e sapendo che fine avevano fatto risolvono tutti fanno un po di caos i tre cavalieri si liberano il re malvagio viene deposto barra ucciso barra quel che è e viene messo sul trono della città di serras galad che per un anno ne diventa il re fino a quando non si presenta in città un essere magnifico che dice di essere il figlio di giuseppe d'arimatea che raccoglie la coppa come se niente fosse ne sprigiona ancora una volta i miracolosi poteri dando visioni di luce angeli e robe varie e lasciando stupefatti galad percival e bors e alla fine dice di dovessene andare via perché la sua nave è arrivata in porto e lui deve ricondurre via il graal tornando ovviamente nelle mani del suo diciamo legittimo portatore perché giuseppe d'arimatea era quello che aveva portato in inghilterra ovviamente la nave è sempre la nave della fede quella dove ancora riposa la zia di galad galad capendo che la sua missione è terminata depone la corona e dice a tutti che non vuole più vivere il suo punto più alto l'ha raggiunto non vuole più assistere a nient'altro dopo aver visto le meraviglie del graal desidera solo terminare il suo compito sale sulla nave insieme al figlio di giuseppe d'arimatea si mette sul letto del re salomone e la nave salpa verso il regno dei cieli galad muore in questa maniera parsifal dirà a boss di non voler più intraprendere nessuna grande avventura perché anche lui ha raggiunto il suo massimo potenziale si rinchiuderà in un convento morirà dopo due settimane bors il toro macchiato quello bianco ma con delle macchie nere un po impuro è l'unico dei cavalieri della tavola rotonda che ha finito la missione ed è tornato a corte ci sono solo dei cavalieri più famosi gawain e l'ancillotto torna solo bors incredulo di essere per davvero lui quello in vita perché pensava di essere il primo a dover morire non essendo puro non essendo particolarmente né forte né bravo e invece il povero boss è l'unico che riferirà a un triste artù la sorte finale dei suoi cavalieri il graal è stato trovato è stato catturato è stato liberato ma a quale prezzo lo scopriremo nel prossimo video con la caduta di camerot e la fine di le artù perché nel frattempo ci sono altri cavalieri a camerot tra cui il buon mordred che si girerà di balle al ritorno di l'ancillotto ma di questo ne parleremo nel prossimo video ragazzi qui finisce il ciclo più importante del mito medievale europeo è pieno di nonsense e di interpolazioni perché è stato rimaneggiato troppe volte tante volte che non si riesce più a capire effettivamente dove volesse andare a parlare all'inizio e dove volesse andare a parare ai tempi contemporanei con madori perché madori ha messo tutti i racconti che trovava senza dare loro una logica quindi molti dettagli sono logici tra l'altro c'è scritto chiaro e tondo che galad parte anche con la lancia di longino in mano curando le persone con il sangue della lancia di longino delle volte cura anche il re menomato con il sangue della lancia di longino e non si sa da dove compare quella lancia quindi purtroppo è una storia importantissima che ha segnato migliaia di media e che però è una storia spezzata come Camerot come Artù come il re pescatore ragazzi detto questo noi ci vediamo al prossimo video grazie per questo lungo viaggio che avete sopportato e ci vediamo alla conclusione di questa storia alla prossima grazie per la visione